C'è una sostanziale differenza tra vendere casa realmente o semplicemente provare a venderla. Stai vendendo ma non stai ottenendo il risultato tanto desiderato? Sei stanco di metodi obsoleti? Allora chiama Victoria Group. Sarà un'occasione per condividere con te il nostro piano strategico di vendita. Un piano fatto da 8 step grazie al quale poter valorizzare al meglio il tuo immobile, renderlo unico sul mercato, fare in modo che si distingua tra tanti ma soprattutto attrarre decine e decine di potenziali acquirenti con un unico obiettivo vendere casa al miglior prezzo nel minor tempo. Se devi vendere casa ricordatelo, Victoria Group, il tuo partner immobiliare.